ben tornati nel salotto di studio mattina il momento del super ospite giornalista sportivo direttore di kiss kiss napoli da 11 anni conduce la celebre trasmissione radio gol showman conduce gol show su canale 9 con noi walter de maggio vabbè showman non è che tu mi sto mai ballare cantare c'è sempre una prima volta c'è sempre la prima volta potresti cimentarti anche quello magari proprio l'ultimo giorno di gol show o magari stamattina visto che sono in una forma strepitosa che poi questi non sono i miei orari sai buongiorno buongiorno grazie per aver accettato il nostro invito grazie a voi sarà l'intervista più difficile perché perché siamo amici dai a parte mi piace molto una vita al bacio quindi è molto bello è il titolo però showman ti piace lo potevo dire come no è proprio bello una vita al bacio non ce l'avevo mai pensato tra l'altro poi in tema perché ho seguito con grande attenzione anche la presenza del dottore prima e credo che sia importante declinare anche ai giovani tanti che vi seguono argomenti i quali forse si parla poco anche nel 2013 che stona un po' no e tu che hai fatto informazione sicuramente non insomma ne puoi tranquillamente parlare a un certo punto perché tu hai sempre fatto informazione no tu non parti non nasci come giornalista sportivo anche se di questo ne parleremo nell'intervista fotografica di lucio pierri poi dedichi tutta la tua vita allo sport e l'informazione sportiva si accade qualcosa accade qualcosa che ti porta ad un cambiamento allora io ho cominciato di fatto facendo il giornalista sportivo in una piccola agenzia stampa che tra l'altro ha veramente ha formato tanti giornalisti e molto esatto bravissima federica la rotopress una piccola agenzia e quindi ho cominciato così nel mio percorso professionale poi però mi sono dedicato alla radio una grande passione un grande amore da lì la tv e e poi sì c'è stato un cambiamento radicale perché di fatto della mia passione principale che sicuramente il calcio ne ho fatto la mia professione e tuttora dura questa esperienza con radio gol che è un programma di grande successo direttore come sono andati i dati bene per fortuna bene il pubblico ci prende l'aumento in verità avrei delle notizie che però non mi sembrerebbe carino come i carti ma diamole in diretta così almeno alziamo l'audenza di studio mattina sai che è un periodo di crisi di recessione quindi di licenziamenti e di tagli tutti i giorni striscia sportiva in realtà ce ne sono ben due perché tra l'altro tu hai una redazione che salutiamo quindi salutiamo Lucio Pengue salutiamo Francesco Marciano e salutiamo Diego De Luca che ti affiancano in questa bella ma Maria Silvia io vorrei parlare molto del tema di cui avete parlato prima ma quello guarda lei è preoccupatissima che le avevo promesso no no ma puoi fare quello che vuoi assolutamente parliamo in privato per le tue cose sai che sono femminuccia se voi stasera possiamo anche scenare insieme magari approfondiamo parliamo di radio gol parliamo di questo programma tutti i giorni in onda su Kiss Kiss Napoli dalle 13 alle 16 e poi dalle 19 alle 20 come sta andando radio gol è sempre andato bene anche quando il napoli era in serie b ma perché secondo te qual è la formula vincente di questo programma beh sicuramente la la città ha un'attenzione speciale sul calcio questo è inutile negarlo undici anni fa nacque quest'idea proprio di un contenitore sportivo di tre ore al giorno dedicato tutto al napoli si è partiti in anni difficili era la serie b c'era tonaldi come presidente da lì arrivò il fallimento seguimmo addirittura in tempo reale tutte le vicende del napoli il tribunale le notti passate in tribunale e poi dopo l'avvento dei laurenti due anni in serie c la serie b che abbiamo raccontato in esclusiva agli ascoltatori l'attenzione mediatica sul calcio c'è un detto che tocca il calcio e diventi famoso in questa città lo possiamo elevare all'ennesima potenza perché c'è un amore verso la squadra del calcio un'attenzione una fame di notizie incredibile quindi probabilmente il successo di radio gol deriva proprio da quello dall'amore che i tifosi del napoli hanno per la loro squadra radio chieschi napoli è stata anche radio ufficiale del calcio napoli adesso sappiamo che è radio mart è la radio ufficiale del calcio napoli anche le altre no no e vabbè siamo in tv ovviamente dobbiamo in ogni caso menzionarle però tu una cosa molto carina noi siamo diventati in qualche modo radio ufficiale dei tifosi del napoli perché voglio dire c'è un'informazione libera c'è anche la possibilità di esprimersi liberamente riguardo alle dinamiche della ssc napoli in qualche modo quindi tifosi si sentono un po più liberi di sbottonarsi è vera questa cosa ho detto in linea di massima sì però devo dire che anche l'altra emittente fa un'informazione molto molto corretta è ovvio che assolutamente sì tra l'altro so che ultimamente sono un po cattivelli nei miei confronti soprattutto al mattino ma io lo dico con affetto e gianni simioli è mio amico ne approfitto per dirlo alla televisione so che mi stanno bacchettando per alcune cose che accadono al venerdì sai che noi abbiamo questo incontro settimanale con il sindaco so che simioli è poco tenero con me ma mi diverte molto perché addirittura so che alla mattina parlano tutte le mattine di me anche sull'altra radio quindi sono un po come succede anche per le grandi per i network no alcuni network che si stuzzano ma è anche il bello quando c'è un dibattito quando c'è un confronto quando si parla della nostra città fa sempre bene ovviamente ci stiamo riferendo alla trasmissione fuori dal comune che Walter Di Maggio conduce insieme al sindaco che tra l'altro è molto contento di potersi esprimere in radio forse è anche un po il suo luogo naturale sicuramente siete soggetti a critiche perché parliamo di una trasmissione in cui si parla della nostra città il venerdì dalle 19 alle 20 è un confronto importante perché il sindaco può parlare evidentemente alla città e comunque credo che sia molto importante questo confrontarsi con i cittadini io sono per chi ci mette la faccia sono per chi risponde alle domande noi non facciamo filtro c'è un filo diretto ma sai che questa cosa me la chiedono sempre giustamente facendo parte della squadra scusami Maria Silvia ma l'intervista fotografica che ora me la faccio tra tre minuti te ne vai no io voglio andare a Lucio perché sono curioso ma chissà che cosa avrà combinato in queste foto però chiariamo questa cosa ti sei mancando solo tre minuti ha ragione perché sei il suo direttore quindi ha bisogno del suo spazio però bisogna anche di dire della carriera di Walter come collega giornalista perché lui è giovanissimo ma sono più di 20 anni che fa questo mestiere radio ha collaborato con grandi giornali Roma e il giornale di Napoli in un'intervista ho letto la tua sottolineatura su quanto sia importante il ruolo del giornalista sportivo e non è di meno importanza di tanti altri giornalisti cronisti perché spesso il giornalista sportivo è vero Walter è un po' sottovalutato e non è così beh tra virgolette diciamo di sì però poi alla fine per esempio se vado a ripercorrere gli anni di Radio Goal ci siamo occupati per esempio di fallimento abbiamo dovuto trattare di temi come il fallimento come il fritto di ramo d'azienda abbiamo dovuto quindi anche allargare le nostre conoscenze all'economia calciopoli, la cronaca, la giudiziaria insomma devo dire che poi alla fine ci sono grandi soddisfazioni devo anche dire che fare il giornalista sportivo ti dà rispetto magari a altri settori una notorietà che evidentemente altri settori non danno è vero, però vero è che molti colleghi e questo l'ha detto anche Monica Scozzafava ovviamente senza fare nomi in questo salotto che molti giornalisti sportivi si dimenticano del resto dell'informazione ce ne sono un po' perché magari il giornalismo sportivo porta via tanto tempo e ci si dimentica di tutto il resto ce ne sono, ma ce ne sono anche le settori assolutamente vero, anzi te lo confermo non ti nascondo che da quando è iniziata l'esperienza col sindaco ho un'attenzione totalmente diversa anche nella città ovviamente devi averla, chiaro certo poi non puoi seguire proprio tutto però è vero, è molto vera questa cosa a proposito di sindaco faccio un passo indietro perché veramente ci tenevo a dire questa cosa che non filtrate le chiamate perché me lo chiedono in tantissimi io sono stata testimone di questa cosa quindi il problema è solo prendere la linea perché tutte le persone vorrebbero parlare col sindaco ultimo step della nostra intervista puoi fare l'intervista con lo Cipieri beh guarda io la sto aspettando perché so che hanno preparato delle cose e ci andiamo poi a fare le nostre chiacchiere solite che non sono quelle che normalmente avvengono nel senso che abbiamo sicuramente un attenzione ripercorriamo, ma lei è serissima la mattina devo dire che sono sorpreso io assonnato quindi tu invece proprio seria arriviamo a gol show ah io pensavo parlavamo del tonno alle mandorle una volta wow questo raccontiamola mi ha seduto, mi ha invitato a cena è stata molto carina mi ha seduto, mi ha invitato a cena tonno alle mandorle ma non è vero, non t'ho seduto chiamiamo la cosa eravamo al pala barbuto per una partita c'è il tuo fidanzato che ci sta seguendo ma non è rifidanzata all'epoca dei fatti neanche ora lo so no no abbiamo una cena molto carina con una bottiglia di vino a testa è vero no che bottiglia per carità vabbè non abbiamo guidato una in tre poi ci hanno raggiunti Diego De Luca insomma ci divertiamo vuole subito aggregare che c'erano anche che carina è vera questa cosa io le voglio molto bene anche io ti voglio tanto bene lei è molto vera e quindi trovare in questo ambiente e Federica e Lucio lo sanno persone vere non è semplice ti ringrazio ti ringrazio per questa cosa e ti ringrazio anche per l'opportunità di Goal Show mi sto divertendo tantissimo soprattutto anche perché mi hai dato un ruolo molto particolare è una posizione molto particolare perché io sono tra il pubblico quindi e Giada De Gregorio lo sa benissimo dovresti darmi l'aumento perché ti faccio l'animatrice sai che è un momento di crisi quindi Maria Silvia infendi le posizioni come sta andando Goal Show Walter? io sono molto contento quest'anno sono molto contento è il quarto anno è il quarto anno di Canale 9 è il quarto anno del Teatro San Nazaro e devo dire credo che la continuità di questo progetto abbia dato davvero spessore a Goal Show quest'anno più degli altri anni c'è un'atmosfera particolare il teatro è sempre pieno c'è un'attenzione mediatica incredibile siccome c'è stato anche nelle altre emittenti una tra virgolette girando di opinionisti di programmi di nuovi programmi editoriali devo dire che la continuità di Canale 9 ha ripagato io quest'anno sono veramente contento perché credo ci sia stato un salto di qualità incredibile che non è dovuto alla tua lo sapevo lo stavo dicendo no no seriamente sei bene a sottolineare sei bene a sottolineare perché se no mi si monta la testa la radio poi studio mattina poi Goal Show poi lei presenta i grandi ma infatti guarda ormai cammino a 10 metri lo sanno tutti ho cambiato proprio atteggiamento meraviglioso e il tondo con le mandorle il tondo con le mandorle se la andiamo a magna proprio presto ah vedi è ritornata la vera ma la sottolinea Walter Walter visto che tu hai commentato tantissime partite del Napoli e non sono quindi sei un grandissimo intenditore di sport a 360 gradi ma soprattutto di calcio se cortesemente puoi guardare il tuo monitor di riferimento di fronte a te e mi puoi commentare questa azione di gioco e mi puoi dire se questo è un fallo da espulsione diretta o no te la facciamo vedere questo è il rosso diretto? secondo me questo è il rosso diretto quindi la balbone deve essere cacciata dallo studio? guarda Lucio rivedendo direi proprio sì questo è il rosso diretto senza dubbio e per giunta con la prova tv potrebbero scattare tre giornate e squalifica studio mattina e secondo me c'era anche l'intenzione di far male all'avversario guarda rivedendolo è un po' il fallo di Flamini a Zuniga perché guarda c'è un momento drammatico tra l'altro non oso immaginare il dolore che hai provato non te lo dico che momento terribile meraviglioso veramente tre giorni di espulsione esilio autoflagellazione poi magari torno in tv e forse in radio chissà chi può dirlo Walter grazie mille per essere stato con me grazie a te buona giornata ti voglio bene lo sai adesso ti mando sono contento sono proprio contento adesso chissà che hanno combinato restate con noi adesso qualche consiglio gastronomico che viene dal mare con l'azienda Oceano e poi l'intervista fotografica di oggi di Lucio Pierri è dedicata al nostro super ospite il numero uno Walter De Maggio Grazie a tutti a tutti